Incidente nella serata il sabato 23 maggio intorno alle 22 sulla provinciale 4,60 all'altezza di frazione e salto a Quarnier. Una faromeo Giulietta condotta da un 46enne di Valperga ha investito due mucche che sono scappate dall'apparato vicino e sono finite sulla carreggiata. La vettura si è ribaltata in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Quarnier, la croce bianca del Canavese e la croce rossa di Castellamonte. Il conducente fortunatamente ha riportato solo le lievi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Quarnier per controlli, decedute le due mucche. La vettura è andata completamente distrutta. Gli accertamenti sulla dinamica sono al vaglio dei carabinieri di Ronco Canavese. Grazie per la visione!